Amici di Battista 70 phone oggi vi presento le bellissime cover ultra slim tpu per iphone 6 da 4 e 7 in questo caso sono delle cover che hanno la particolarità di essere in tpu quindi molto flessibili e che danno una buona protezione ma al tempo stesso di essere veramente molto ma molto fini andiamo ad infilare ad esempio la fumela nera qui come la vogliamo chiamare è molto aderente quindi va bene ho fatto un attimino di sforzo per inserirla ok inseriamola anche sotto ok perfetto è inserita praticamente è come se non ci fosse quasi non si vede potete notare l'abbiamo qui sulla parte laterale è solo coperta l'ingresso della nano sim il tasto è ben scoperto sopra da una copertura pressoché totale qui ci sono solo i tasti fuori e sotto lascia liberi tutti i vari ingressi e lo speaker sul retro da una buona protezione come potete vedere questa da anche un bel colore fumè ed ha un minimo di rialzo dove c'è la fotocamera che dire sono tra le cover migliori che abbiamo nello shop un saluto da loris alias battista 70 per battista